La rigenera del議o mobiliativo è una politica del regolato che non va a prevertirlo dal prozessione quando vi posto a Stavallone e fa crescere chi ha sempre che stato un prozessione che era non è che stato un prozessione c'era l'indietro del comune del Renato con l'astrono del corpesso che si vade la sua istituzione al Presidente e questo Presidente fa parte di un prozegno di Presidente dove la maggioranza è la presenza dell'oposizione, dell'attività delle possiglie, della posizione della posizione Il Consigliere Fuccio Sussi ha preso l'accordo su una proposta di politica che ha seguito la maggioranza, ha preso molta identità, la problematica che definisce l'Istituto passa a maggioranza e una circosizione che fa. Il Consigliere Fuccio Sussi ha preso l'accordo del Consigliere Fuccio Sussi ha preso l'accordo per la piazza dei colori. Allora, io non capisco perché noi, veniamo con poterci in un regolamento, a esempio in un regolamento, poi inseriamo quello che ci resta dal regolamento del contesto, ci prendiamo con un'assima cumulare, perché soffia la vostra zona una notifica tra il regolamento. E allora, se il regolamento di feste, dico da psicologo, faccio la regolamento, io mi penso che devo proporre una notifica a un regolamento di sicurezza quando io la ho sempre e poi dopo le vado di avere il regolamento, solo, solo, sapete che la situazione del regolamento. Io penso che dico però, penso a compito dell'ufficio di resistenza. L'ufficio di resistenza, sulle soluzioni di norma di garantia della spesa di esigenza, non si mette di conducimento alla legge, è stato fatto con un'ottima cumulità e di riparamento. Allora, dico io, perché noi, ad un'inizio, non abbiamo potente operare la scuola che era il nostro preciso compito e istituzionale, di un regolamento del regolamento, o per inserire il regolamento del regolamento del regolamento del regolamento. Viste che c'è grande disoccupante, abbiamo persone che è tutta la porta a essere soddisfatti che erano percorsi in dieta. E noi stiamo qua a discutere, perché il primo agosto, il primo agosto, nella conferenza di Caudi Pugli, si è dato, per un punto politico, possibilità, altrimenti, qui a contare una forza di politica, che sono un pochino, una forza di politica, ma tutti i pochi, cercare di sottolineare, perché faccio vedere, che si debiare di sottolineare, infatti, queste, delle 24, alle 11, la proposta di politica che si trova anche l'inforzativo di Caudi, di una forza di politica che si trova anche l'inforzativo di Caudi, anche, con la base a quella di che se cazano una proposta di Caudi, un prensato dei Caudi. Faccio presente, faccio presente, che prima di passare alle proposte politiche che comunque con te sono andati alla porta aperta, io dico prima di passare a questo perché è tutto il momento di gente e a cambio che non lo stiamo adottando. Questo è un'attività di un'istituzionale, perché se noi vediamo la sua opzione, 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 la sua opzione. E' l'attività che si diverte, che ha anche un'attività di un'istituzionale, siccome prize, subito al possibile, qui do che direi che poi noi guardiamo la sua opzione e poi in Pil diagrammere questa opzione d'ispieltate nel sito. la prima parte 5 dice, noi facciamo uso a non so che scende il regolamento, dove la prima parte 5 dice, il consigliere prima che ha preso la discussione sulla domenica di questo giorno, ma quanto si scende il regolamento, nel regolamento, dira il regolamento, anche se scende il regolamento, di fare questo, di vedere un po' più vicino al regolamento attuato, consigliere d'autore all'odereo, per esempio, di un cazzo del comuso. Siamo stati adottati, io voglio dire questo, noi siamo d'accordo con le proposte di modifiche, la proposta di esercizio che comunque dobbiamo trovare, dobbiamo passare attraverso un indirizzo legale, di trasparenza, di spettacolo, di corso della proposta di modifiche, e visto che lo stato attuale, noi siamo giunti all'inizio, all'approvare la proposta di modifiche, cerchiamo di lavorare, e questo è un certo accordo di invalidità del Consiglio Comunale, e adesso facciamo le punizioni, secondo me, diciamo, di fare il regolamento, e questo è quello che sta a perdere, 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 e questo è quello che sta a perdere.